Oggi noi abbiamo provato a fare un fuoco sulle rive del torrente Tresinaro. Questo è un arco che abbiamo costruito con un pezzo di legno robusto, un po' curvo e un pezzo di corda che ci eravamo portati dietro da casa. Questo invece andava arrotolato nell'arco ed era poi il legno che veniva girato per fare le braci. Veniva spregato con l'arco sopra questo. La pezzatura che abbiamo usato veniva disposta in questo modo con la corteccia qui sotto. Con il piede tenevi fermo la tavoletta e poi tenevi stretto l'arco, come una sega diciamo. Noi sfortunatamente non abbiamo avuto dei grandi risultati. Infatti l'unico risultato che abbiamo avuto è stato un po' di fumo.